partiti fino alla fine del primo tempo, forza di un gol movimento di Pjanic, palla per lui tra due, Higuain nello stretto, Bentancur, ancora Gonzalo attenzione, largo per la corsa velocissima di Quadrado siamo già tre dentro l'area di rigore la cross a Juan, sul primo palo cerca la conclusione Douglas Costa Pulgar ancora Lirola, Pulgar a campo per il cross secondo palo, scavalca anche Quadrado recupera Ghezzal dall'altra parte, attenzione contro Traversone, al centro Bonucci di testa dall'altra parte, sembra un flip per l'attacco da Fiorentina, altro tentativo di contro cross che arriva da destra questa volta, attenzione attacchi in area pericolo a Scesni tuffo incredibile di Voic che porta via il pallone dal gol di Chiesa palla a gol per la Fiorentina parte la cross sul primo palo, deviazione fuori dall'area di rigore la Fiorentina, cerca la conclusione dalla distanza, ancora Scesni con i pugni poi altra palla dentro ma mancano tutti Ronaldo punta Benassi lo scarta, vede la porta da lunga distanza ma non tira, preferisce lo scarico per Bentancur destro, la ribattuta di Dragoschi Ronaldo davanti Quadrado Quadrado cross dentro l'approccio di petto per Rabiot ribattuto Pjanic, grandissima conclusione mano in area, attenzione, arbitro e allora vediamo Pasqua, dice Var calcio di rigore fisca l'arbitro Cristiano 1-0 Juventus siiii nono gol consecutivo per Ronaldo che raggiunge tre seghe che li fece nel 2005 altro record per lui aveva comunque intuito la traittoria di Dragoschi che lunghissimo si è gettato verso il palo ma nulla ha potuto contro la precisione di CR7 arriva 1 e arriva 2 il duplice fisco del signor Pasqua manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi attenzione che cercava la verticale Bonucci ha provato a uscire con un numero che non gli è riuscito alla perfezione allora ancora la Fiorentina Chiesa, Chiesa, Chiesa gioco di gambe limite pericolo può tirare ben assi lo fa! uh mamma mia il pallone fuori Rabiot per Bentacura a campo a destra Douglas Costa arriva velocissimo qua dal lato Douglas 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 entra in area di rigore Douglas può metterla in mezzo dietro per il sinistro per la Pedranoschi la porta è vuota attenzione la riconquista Cristiano alza la faccia destro ribattuto ancora una volta palla gol questa volta per noi pulitissima e corner numero 4 a pausi del pubblico Quadrado Rabiot spazio carica il mancino abbastanza violento ma centrale in due tempi Dragoschi para tutto pronto è una finta di conclusione per il cross dentro l'area di rigore è uno schema palla alta attenzione Quadrado anticipato poi sottoporta cerca ancora la conclusione la Fiorentina libera Bonucci solo per un secondo altro tiro al volo ribattuto di Pezzella con palla che ci conquistiamo noi sulla rimessa in gioco dal fondo di bala azione Paolo per Bentancur limita della rigore sinistro destro sinistro giù caccio di rigore azione personale di Rodrigo Bentancur di riposo di riposo di riposo